Sta suscitando scalpore a Bellinzona quello che inizialmente era sembrato un caso legato alla cronaca nera luganese. Dalla Raiffeisen di Vezia le indagini e i riflettori si sono spostati su una pizzeria della capitale, un noto ritrovo, l'osteria Portici, ora posta sotto sequestro e sigillata dagli inquirenti dopo che nella toilette del locale è stata rinvenuta una parte del bottino del colpo messo in atto mercoledì scorso a Vezia. Non una rapina mano armata, come era sembrato inizialmente, ma una messa in scena che finora ha portato all'arresto di tre persone. Come anticipato oggi dai quotidiani ticinesi, si tratta dei fratelli Calderone di Bellinzona, uno 43enne, indicato come l'autore materiale della finta rapina, l'altro 37enne, il gerente dei Portici, dove gli agenti hanno trovato parecchie decine di migliaia di franchi, quasi metà del bottino che ammonterebbe a più di mezzo milione. Ma il primo ad essere finito nelle maglie della giustizia è il dipendente della Raiffeisen di Vezia Antonio Notarnicola, 35enne di Lugano. Aveva raccontato di essere stato minacciato, legato, imbavagliato da un uomo che, dopo essersi finto cliente della banca, ha estratto la pistola e la rapinata. Ma la posizione del 35enne si è presto ribaltata e lui, sentito in qualità di vittima della rapina, si è visto scattare le manette ai polsi perché è ritenuto coinvolto in questo raggiro architettato ai danni dell'istituto di credito. L'interrogatorio dell'impiegato ha segnato la svolta nelle indagini della Polizia e del Ministero Pubblico che proseguono con l'obiettivo di individuare eventuali altri presunti complici o correi. Coordina all'inchiesta la procuratrice pubblica, Clarissa Torricelli.